In questo contenuto vediamo come si ottimizza dal punto di vista SEO un video su YouTube quindi come si fa a renderlo più visibile su YouTube a chi? Alle persone che stanno cercando di risolvere il problema che voi risolvete con il video in questione è una roba molto logica quindi c'è un problema, c'è la ricerca di una soluzione e voi dovete fare tutto quello che è nelle vostre forze e capacità per rendere questo contenuto più visibile, più facilmente rintracciabile ora ci sono diverse correnti di pensiero a riguardo ci sono quelli che si schierano e dicono no la SEO non serve assolutamente a niente è YouTube che sceglie il video giusto al momento giusto per l'utente giusto e poi gli altri invece dicono no invece devi stare lì a ottimizzare ogni singola virgola sui tag nelle descrizioni devi riprendere la SEO che si faceva sul blog la devi adattare a YouTube ecco secondo me le cose non sono mai né nere né bianche al 100% ma c'è sempre secondo me la soluzione ideale per ognuno di noi parto dal presupposto che secondo me la SEO quindi l'ottimizzazione della descrizione, dei titoli, dei tag e anche dell'argomento e poi ne parleremo in modo dettagliato serve perché? perché YouTube è un motore di ricerca a tutti gli effetti adesso vi faccio vedere un paio di dati del mio canale giusto per farvi capire di cosa sto parlando vi condivido lo schermo eccolo qua allora il mio non è un canale enorme, è un canale piccolo e secondo me la maggior ragione con i canali piccoli dobbiamo cercare di creare dei video che possano rispondere a delle domande specifiche questa è la mia filosofia possono risolvere dei problemi specifici perché siamo anche molto meno spinti anche dalle grazie di YouTube perché ancora ci dobbiamo guadagnare la fiducia infatti sul mio canale io ho approcciato molti contenuti proprio con la tecnica di rispondi a domande specifiche ottimizzate in ottica SEO ora voglio farvi vedere qui come sorgente di traffico quanto pesa negli ultimi 90 giorni la parte che riguarda diciamo la SEO su tutte le visualizzazioni che io ho avuto negli ultimi 90 giorni in questo caso il mio canale che è un canale piccolino comunque ha avuto 63.000 visualizzazioni negli ultimi 90 giorni e per quanto riguarda la SEO che si riferisce a ricerca esterna e ricerca di YouTube siamo intorno ai 36.000 visualizzazioni quindi più del 50% voglio farvi vedere una cosa ulteriore quindi ricerca su YouTube è una ricerca fatta dalle persone che cercano di rispondere a determinate domande direttamente sul motore di ricerca di YouTube proprio nella barra di ricerca mentre per quanto riguarda l'esterno a che cosa si riferisce? l'esterno ecco qua è una ricerca che in questo caso c'è la Google Search che contribuisce alla ricerca esterna e poi ci sono alcuni link e nel mio caso Google Search ovviamente è quasi la totalità delle ricerche perché è quasi il 70% in questo caso e poi ci sono vari link in Whatsapp, Telegram le persone che magari si girano i link del mio video quindi vedete quanto soprattutto in un canale piccolo può pesare la ricerca ottimizzata poi ovviamente questa è una cosa che riusciamo secondo me a controllare controllare forse il termine è sbagliato ma influenzare un pochino di più rispetto per esempio a quest'altra roba funzioni di navigazione, video consigliati cioè questa è una roba proprio al 100% in balia nelle mani di YouTube mentre per quanto riguarda la parte di ricerca e navigazione diciamo dall'esterno è una parte un pochino più diciamo influenzabile in un certo senso soprattutto se facciamo dei video che sono dei video esplicativi dove noi magari spieghiamo una materia un argomento di cui siamo appassionati quindi il classico video che sto facendo anche adesso un video parlante con la testa parlante il talking head video è cosiddetto in questo caso ha maggior ragione dobbiamo cercare di risolvere dei problemi probabilmente se voi state guardando questo video una curiosità, un problema che avete è dire ok ma io nel momento in cui carico il video come lo ottimizzo dal punto di vista SEO perché magari avete avuto degli stimoli degli input che vi hanno fatto ragionare in questo senso ok allora oggi voglio suggerirvi un tool esterno ma ce ne sono tanti ma vi faccio vedere questo qui che secondo me è molto utile nell'ottimizzazione e vi condivido la mia filosofia di ottimizzazione allora vi vado a far vedere un mio video innanzitutto prima di farvi vedere il mio video vi faccio vedere il tool allora il tool in questione si chiama vda iq praticamente questa è un'estensione chrome che voi installate direttamente su chrome che collegate direttamente al vostro canale youtube che vi aiuta non soltanto nell'ottimizzazione SEO ma vi aiuta anche a fare ricerca di alcune parole chiave che possono essere rilevanti alcuni consigli addirittura in ambito di intelligenza artificiale eccetera eccetera ora io ho la versione gratuita ci sono anche delle versioni a pagamento per fare un lavoro in modo ancora più approfondito nel mio caso io lo utilizzo soltanto per alcuni spunti perché secondo me anche esagerare nell'utilizzo di questi strumenti sperando che lo strumento poi ti possa fare miracoli se tu poi fai dei contenuti scadenti o comunque contenuti che non sono interessanti per le persone ecco questo è un altro estremo ed è altrettanto sbagliato nel momento in cui vi loggate per esempio su VidaIQ ci sono diverse sezioni una delle sezioni secondo me più interessanti a parte tutta la parte diciamo di idee che potete avere grazie proprio all'analisi del vostro canale e grazie all'utilizzo di intelligenza artificiale per esempio il mio canale non so parla di intelligenza artificiale lui lo analizza e dice ok tutorial so come usare CiaGPT per la scuola potrebbe essere visualizza previsione qui vi da alcuni ranking potrebbe essere un video molto interessante da fare visto la tipologia del tuo canale ok oppure un altro tema impara a creare video coinvolgenti questo tra l'altro è un video manco a farlo apposta che sto per girare non so se quando uscirà questo contenuto sarà già uscito ma è vero veramente lo sto sto facendo un contenuto dove condivido una scaletta per un video che possa attirare l'attenzione quindi incredibile questa cosa vabbè quindi c'è anche per dire un suggeritore addirittura potete fare l'analisi dei concorrenti selezionando alcuni canali ma semplicemente per vedere se alcuni vostri pari come procedono in relazione poi al vostro andamento e poi c'è per esempio tutta la parte che riguarda le parole chiave e voi potete avere una sorta di input sulle parole chiave per esempio se io potessi fare una ricerca di giardini verticali per dire ok lui che cosa mi analizza mi analizza la potenzialità e la concorrenza dice il volume di ricerca è medio e il grado di concorrenza è basso ok significa che potrebbe essere un argomento interessante da approfondire attenzione che la parola chiave in questo caso dobbiamo secondo me prenderla proprio in termini di argomento che potrebbe essere interessante non come una parola chiave specifica da inserire nel titolo ok cioè o anzi ebbene nel momento in cui fate un video del genere sicuramente è utile inserirla però dobbiamo più ragionare su sull'argomento quindi i giardini verticali ha questo potenziale ok poi ci sono per esempio tutta la sezione di parole chiave correlati e bla 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 comunque è soltanto un accendo non vuole essere un tutorial di VidaeQ poi se lo volete insomma lo facciamo se installate l'estensione Chrome e accedete a YouTube da Chrome la cosa molto interessante è questa adesso ve la faccio vedere se andate su ecco qua sul vostro canale YouTube a questo punto voi avrete e andate su YouTube con 30 euro su YouTube studio vi faccio vedere subito ok vi fa vedere praticamente al lato anche tutta una serie di altri parametri che solitamente YouTube non vi da quindi vi arricchisce di dettagli anche YouTube studio ecco qua finalmente ha caricato per esempio tutte queste voci solitamente queste in basso solitamente non ci sono ok quindi io per esempio vi faccio vedere il channel audit praticamente una breve analisi del vostro canale che vi fa direttamente l'estensione e vi analizza l'andamento dei vostri video e anche vi analizza il trend perché magari tante volte siete anche afflitti del trend il mio trend in questo caso è abbastanza positivo perché dice hai ottenuto mese su mese 25% di visualizzazioni in più circa il 10% di iscritti mese su mese in più minuti in più eccetera e poi vi dice anche per esempio i video più visualizzati il video che hanno una retention maggiore il video che hanno una visualizzazione media maggiore minore quali sono le state nel vostro mese le ricerche per esempio nel mio caso in video iudio e fliki sono stati quattro tool su cui ho fatto dei video ottimizzati in ottica seo che mi hanno portato delle ricerche proprio per quanto riguarda la ricerca consapevole e bla 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 ok quindi questa è una cosa che voi avete utile un'altra cosa che voi avete utile è qui una visualizzazione molto sintetica dei vostri dati anche a partire da questa barra quindi vedete visualizzazioni iscritti tempo di visualizzazione eccetera questa tra l'altro è personalizzabile e un'altra cosa molto utile è questa qua nel momento in cui andate a caricare un video e nel momento in cui andate ad ottimizzare la parte della descrizione questo è un video che sta per uscire ora non so se è già uscito nel momento in cui facciamo uscirà quest'altro video ma vi faccio vedere come ti può aiutare questo tool anche nell'ottimizzazione allora innanzitutto vi dico come ragione in ottica SEO allora io in ottica SEO un po' cerco di riportare i concetti legati alla SEO che si faceva sui blog sugli articoli ok quindi vado ad individuare una keyword che potrebbe essere una keyword principale una keyword diciamo chiave in questo caso la keyword è creare modelli modelli 3D con AI quindi questo è il tema del video il tema su cui mi voglio focalizzare quindi io cercherò di utilizzare questa keyword modelli 3D con AI sia nel titolo ma anche nella descrizione questa diciamo è la prima cosiddetta regola della della ridondanza in questo caso che però ti aiuta proprio ad ottimizzare dal punto di vista SEO infatti anche il tool stesso ti fa un'analisi in questo senso e ti dà un punteggio in termini di ottimizzazione ok è un punteggio in questo caso dice addirittura 50 su 50 insomma vabbè ovviamente è approssimativo perché non penso di averlo ottimizzato al 100% però che su cosa ragiona ragiona su sul ecco parola chiave se è presente la parola chiave del titolo se è presente la parola chiave nella descrizione il volume dei tag che io vado a inserire qua è il numero dei tag il numero dei tag è il numero dei tag che io metto qui sotto e il volume è qual è la potenziale ricerca di questi tag allora anche youtube stesso che cosa mi dice mi dice guarda che i tag non fanno tutta sta differenza proprio presi singolarmente ma hanno più senso inseriti in un contesto generale del video compatibilmente poi con la descrizione con il titolo eccetera e un'altra cosa che ti dice è che magari se ci sono altri modi di cercare il contenuto che stai facendo e stai producendo in questo video cerca di scriverlo qui dentro perché questo potrebbe aiutare la ricerca e individuazione da parte dell'utente che ha il problema del tuo video ok infatti che cosa faccio io in questo caso ok il mio titolo è questo come creare modelli 3d con AI ora un'altra cosa scusate perché mi dimenticavo copertina ora qui io non ho dei riferimenti testuali sicuri con delle regole con delle procedure però quel che si dice è che e questo è molto probabile anche vista anche tutta la parte AI di Google di YouTube che anche il testo di nella copertina è in qualche modo influenzato dalla SEO nel senso che deve essere coerente con il contenuto del video ora qua non ho certezze e qua secondo me c'è più un discorso anche di algoritmi suggerimenti casualità perché io ho visto anche per esempio delle copertine senza titoli che hanno tutta la visualizzazione di questo mondo quindi insomma però io nel mio caso tendo a inserire comunque alcune parole chiave anche all'interno della copertina però cerco sempre di esprimere la copertina con una logica semantica diversa rispetto al titolo in questo caso per esempio è abbastanza simile però probabilmente magari dovevo usare un taglio comunicativo leggermente diverso ora io solitamente preparo due o tre copertine intanto lo pubblico e poi vedo come performano le copertine e poi la cambio intanto io lascio questa poi vediamo se è da cambiarla o no magari con un taglio comunicativo diverso magari un pochino più ingaggiante magari cercando di incuriosire poi l'utente che sta per guardare il video ok quindi che cosa succede la descrizione quindi io scrivo la descrizione qui dentro e cerco di utilizzare più o meno le parole chiave e cerco allo stesso modo di fare cosa di cercare di spiegare all'utente che cosa vedrà in questo video non inserisco la parola chiave così fine a se stessa ma comunque cerco di scrivere delle frasi di senso compiuto ok poi quello che faccio ripeto ragazzi questo è quello che faccio io e nel mio piccolo sto vedendo dei risultati non pretendo di avere la verità assoluta insiamo in bocca un'altra cosa che faccio è questa quindi inserire questi tag che secondo me sono utili proprio in termini di ricerca quindi scrivo il tag modello 3d creare modelli 3d dal 2d al 3d cioè io dico secondo me il video potrebbe essere interessante anche per le persone che cercano in questo modo cioè se una io voglio nel diciamo nel mio ideale obiettivo che la persona che cerca dal 2d scrive nel motore di ricerca dal 2d al 3d possa avere il mio video tra i risultati ok oppure una persona che scrive progetti per stampa 3d siccome il video è adatto anche a risolvere questo problema voglio che cercando questo termine di ricerca possa avere il mio video tra i risultati di ricerca ho la certezza che questo accade no però un'altra regola che io mi sono dato è questa è una filosofia di fondo se youtube google eccetera mettono uno spazio io sono della della logica riempilo ok nel senso che se c'è uno spazio secondo me è il caso di riempirlo anche perché in un mondo in cui si cerca sempre di accorciare le informazioni da inserire rendere il user experience sempre più facile youtube cioè se era totalmente inutile questa sezione come molti dicono la toglierebbe magari la domani la toglierà magari quando lo state vedendo questo video non ci sarà più non lo so in questo momento no non è così c'è questi strumenti per esempio ecco sono anche integrati perfettamente con youtube quindi lo vi dai q ma anche tubebuddy fa una roba molto simile e quindi mi aiuta a inserire man mano che io inserisco i tag in questo caso quindi alternativi modi per trovare potenzialmente il mio contenuto qui ho il punteggio che viene in qualche modo compilato e ottimizzato ok un'altra cosa interessante è questa che con il tool di cui vi parlavo se io clicco sopra modelli 3d lui mi dice anche approssimativamente io poi qui c'ho la versione così da poracci no non c'ho la versione a pagamento però mi dice più o meno quali sono ecco vedete altre parole interessanti che potrebbero essere in linea con il contenuto io posso selezionarle direttamente da qua ok tipo modelli gratuiti che non è non è questo il caso corso AI no ogni nel senso che poi non è che devo forzare la mano comunque i tag devono essere abbastanza coerenti non è che posso scrivere qua c'ha gpt così a buffo ma anche se non c'entra assolutamente niente io assolutamente non lo inserisco ok quindi una volta fatto questo voi andate a salvare il video vedete qua il vostro segnalino verde eccetera poi ovviamente la performance del vostro video non viene influenzata soltanto da questa tecnica ci sono 3 mila miliardi motivi cioè il contenuto la qualità del contenuto la capacità di attirare l'attenzione watch time titolo e copertina al di là del discorso se o se performano bene o non performano bene se sono se è una copertina fatta con i piedi cioè tra l'altro sono molto più importanti video copertina detta di tutti della seo ok stessa però secondo me anche la seo non è da tralasciare io non ho un approccio super maniacale anche perché anche la dimostrazione di questo utilizzo vita IQ come strumento però lo utilizzo come riferimento così per darmi degli spunti non sono un matematico scienziato che va a spulciare ogni singola cosa però secondo me queste cose sono utili da tenere in considerazione e non è un peccato lasciarle da parte tralasciarle e non dargli peso amici se volete essere aggiornati su questi temi quindi anche sulla creazione di contenuti su youtube io sono un piccolo creator che cerca un pochino di costruire una presenza online grazie a voi piano piano la community sta crescendo anche su telegram insomma unitevi ad altre persone troverete i link qui in descrizione e iscrivetevi ovviamente al canale se volete essere aggiornati sui prossimi video anche per aiutarmi a coltivare questo canale quindi per insomma darmi degli input super positivi perché ovviamente in questo momento è hobby è passione e quindi mi fa piacere condividere ciò che imparo tutti i giorni con voi senza la pretesa di avere la verità assoluta in bocca come sempre dico ma condividendo quello che io personalmente imparo ogni giorno vi ho fatto vedere qualche dato e questa è la situazione amici ci vediamo ci sentiamo alla prossima dagli tutta